Guardate un po' che belle, morbide, mele e uvetta. Wow, buonissima. Ciao amici e benvenuti con una nuova ricetta. Oggi è domenica e ho pensato di fare delle belle tortine con la mela e uvetta. Per questa ricetta ho usato 4 uova, un pizzico di sale e 250 g di zucchero che poi ho montato per bene. Nel frattempo ho pulito 3 mele, le ho divise, le ho tagliate a fette e poi le ho sbucciate. Potete fare anche con un coltello, semplicemente. Il composto deve risultare così. Bello denso. Poi ho aggiunto 3 cucchiai di yogurt intero, ho setacciato 300 g di farina, 00, una bustina di lievito per i dolci e ho amalgamato con delicatezza per non smontare le uova. Ho tagliato a tocchetti le mele e poi ho aggiunto al composto, amalgamando, sempre con delicatezza. Ho preparato le formine con burro e farina e poi ho aggiunto il composto. Sopra ho messo un po' di uvetta, poi ho messo al forno a 170 gradi per 25 minuti. alle mele. Guardate un po' che belle. Morbide. Mele e uvetta. Wow, buonissime. Prova a assaggio. Mmm. morbidissime mamma mia veramente buone guardate provatele ragazzi perché veramente sono buonissime buone